Grazie a tutti i telespettatori di VCO Azzurra TV, continuiamo in questa serie di approfondimenti dedicati alla spending review, al futuro del territorio del verbano Cusio-Ossola. Abbiamo dato voce al mondo della politica, ora iniziamo anche ad ascoltare quelli che sono i cosiddetti portatori di interesse, ovvero i rappresentanti di tutte le categorie che poi sono la linfa di questa provincia. E saluto subito il nostro ospite che è il presidente della Confederazione Nazionale Artigianato e della piccola media impresa, ovvero la CNA del verbano Cusio-Ossola. Benvenuto. Grazie dell'invito. Allora, proprio i presidenti delle province di Novara e di Verbano Cusio-Ossola hanno parlato dell'intenzione di convocare a settembre una sorta di convegno, li chiamano stati generali, della costituenda nuova provincia che nel loro disegno sarebbe di quadrante, quindi VCO Novara, Biella, Vercelli e la loro intenzione è proprio di ascoltare il parere di questi appunto portatori di interesse. Lei come rappresentante della piccola media impresa del mondo dell'artigianato, che idea si è fatta in merito a questo dibattito aperto in questo periodo? Devo dire che è positivo il fatto che se ne discuta tutti gli attori principali, compresa le organizzazioni sindacali, per il futuro del nostro territorio. La razionalizzazione della spesa pubblica ha portato anche a una revisione delle attuali province. Sappiamo benissimo che le quattro province, Vercelli, Biella, Novara e Verbano Cusio-Ossola, non hanno più i requisiti per rimanere provincia autonoma. Bisogna accorparsi, è ovvio che noi abbiamo detto come CNA che la soluzione migliore è creare la provincia di Quadrante, cioè tutti i territori del Novarese, del Verbano Cusio-Ossola, del Biellese e del Vercellese messi insieme. Tengo a precisare che già noi come CNA abbiamo una sorta di associazione unica tra Novara, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli. Quindi un discorso che è già iniziato per voi? Per noi è già iniziato ma già da qualche anno fa perché insomma anche all'interno nostro c'era da razionalizzare soprattutto i servizi che vengono dati ai nostri associati, per cui la gestione di questi servizi ha fatto in modo che tutte e tre le associazioni provinciali si mettessero insieme per ottimizzare e risparmiare su questo. Ecco, lei è stato anche ed è impegnato nella politica, lo è stato in passato come amministratore provinciale tra l'altro, per cui ecco dal suo punto di vista come imprenditore e anche come politico, la suppressione della provincia del VCO, almeno la perdita della sua autonomia, che cosa potrebbe comportare? Può essere anche un'opportunità, quindi non solo una fine? Sicuramente diciamo che dobbiamo fare buon viso a cattiva sorte, nel senso che ci obbligano a dover metterci insieme ad altre province per razionalizzare i servizi. Ecco, l'importante è che gli uffici decentrati dello Stato, quelli che servono alle imprese, che servono al cittadino comune, non vengano cancellati dai territori, ma anzi, vengano messi in rete e potenziati, per dare delle risposte maggiori e celeri a chi è che ha bisogno. Lei sa che in questi giorni si sta facendo avanti un'altra proposta, che diventerà anche una proposta di legge a settembre, ovvero la creazione di questa sorta di maxiprovincia dei laghi transprovinciale, quindi che unisca Novara, VCO e poi le Lombarde, Varese, Como, Lecco, Sondrio. Lei che cosa ne pensa? Ma io penso che prima di tutto bisogna vedere che funzioni avranno le future province, se saranno enti di secondo grado o enti di primo grado, per cui direi che se dovesse naufragare l'ipotesi di Quadrante con le Piemontesi, io vedrei di più un'unione con Varese a questo punto, che economicamente è molto più vicino a noi, abbiamo il Lago che è in comune, ma penso anche che Novara, Varese e Verbano, Cusiossolo, possano veramente riunire il Lago Maggiore. Tenete presente che gente di Dormelletto, ma anche gente di Verbagna, spesso e volentieri per recarsi al lavoro, vanno in provincia di Varese, Sesto Calende, anziché Varese stesso, Luino, per cui siamo più affini, diciamo, ai Lombardi, di Mavarese, una provincia che comprenda anche Sondrio, Lecco, sarebbe più che una provincia, sarebbe una regione alpina, allora lì il discorso è diverso, i ragionamenti che si dovrebbero fare sono anche diversi. Invece con le altre piccole imprese, con le realtà artigianali del resto della regione, quindi si parla fino a Biella addirittura, che affinità ci sono che vi legano? Ripeto, per quanto ci riguarda come CNA, noi abbiamo già trovato le affinità e ci siamo messi insieme, ma senza dubbio diventerebbe una provincia dove, dal punto di vista economico, molto forte. Teniamo conto che il Vercellese è molto simile a noi, perché anche la provincia di Vercelli, qualche vallata ce l'ha, la Valsesia, per cui non vedrei questo grosso divaricamento tra le varie affinità, si potrebbero completare e complementare le quattro province. Per quanto riguarda, perché tutto questo discorso della Spending Review si inserisce in un momento particolare per il nostro territorio, venendo al verbano Cusiossola, qual è la situazione attualmente della piccola impresa e delle imprese artigiane, perché di fondo sono poi il tessuto produttivo, quello l'unico che ci è rimasto, visto che la grande industria è ormai scomparsa per noi. Certo, diciamo che dal punto di vista statistico in questi anni qualcosa come lavoratore autonomo si è perso come iscrizione nella Camera di Commercio, però negli ultimi anni tra le aziende che chiudono e quelle nuove che aprono, bene o male c'è un trend quasi positivo. Però dobbiamo tenere conto che le imprese alcune dopo due o tre anni chiudono, per cui non è un qualcosa, la crisi ha portato anche alle persone a dover aprire una partita IVA e a lavorare autonomamente rispetto a quello che faceva in passato, con i rischi ovviamente di impresa che la crisi ha accentuato. Però lei nota magari nei giovani la voglia di avviare una propria attività, non solo per disperazione insomma, ma anche perché ci credono ancora o si è persa un po' la fiducia nel futuro? No, i giovani d'altronde è qualcosa che facciano perché se l'industria non li occupa più, se non hanno altri sbocchi vediamo le percentuali di disoccupazione giovanile sono altissime per il nostro paese perché insomma superiamo abbondantemente il 25%, i giovani bisogna invogliarli e bisogna accompagnarli, questo sì, perché uno che finisce ad esempio la scuola che sia professionale oppure un diploma di istruzione superiore, poi quando si inserisce nel mondo del lavoro non ha quell'esperienza, bisogna trovare il modo di dargli la possibilità di accompagnarlo nella sua scelta di lavoratore autonomo. Certo, e se lei potesse rivolgersi direttamente al mondo della politica che cosa chiederebbe a nome di coloro che lei rappresenta come CNA per agevolare, per invogliare, a tornare a fare impresa? Guardi, lo diceva lei prima, io ho avuto anche un'esperienza politico-amministrativa in passato e devo dire che attualmente la politica non riesce a dare, diciamo, le risposte a quello che la gente chiede. Io auspico che si ritorni a far politica, nel vero senso della parola, che si prendano di petto i problemi che le comunità possono avere per cercare di risolverle. Ovviamente il nostro Parlamento non aiuta a questo. Ecco, fino adesso appunto si è parlato di riduzione della spesa, ma si dovrà prima o poi parlare di sviluppo. E in questo senso quali provvedimenti possono essere utili, urgenti almeno? Uno che è già dentro nel decreto legge che dovranno portare il governo Monti, quello deliva dilazionata il pagamento per le imprese che hanno volumi di affari fino a 2 milioni di euro. Questo è già un primo passo avanti. Successivamente i pagamenti che le amministrazioni pubbliche hanno in corso devono effettuare in tempi abbastanza brevi, perché altrimenti non è più possibile pensare di prendere soldi dopo 180, 270, 365 giorni. Uno quando ha finito il lavoro, soprattutto uno piccolo, ha bisogno che la fattura le venga pagata per andare avanti, altrimenti accumula dei crediti che per lui sono poi dei debiti, nel senso che si espone con le banche, le banche oggi sappiamo che fanno pagare il denaro in maniera consistente. Un altro punto interessante è quello delle banche, perché proprio ad esempio il Presidente della provincia di Novara parlava appunto di la possibilità, qualora venisse creata la provincia di Quadrante, di mettere anche insieme le banche che sono espressione dei territori per proporre delle forme di sostegno al mondo produttivo. Lei che cosa ne pensa? Ma se si riesce a fare questo sarebbe un punto a vantaggio delle imprese, ma penso di tutto il territorio, ho i miei dubbi perché poi le banche ragionano in determinata maniera e hanno un modo di lavorare che è completamente diverso un po', non danno la possibilità di poter crescere. Anzi, oggi come oggi le banche sono restie ad aumentare i fidi, a cercare di dare credito alle imprese. Ovviamente la situazione economica e la crisi ha portato anche a questo. Quindi lei è poco fiducioso su questo punto? Ma, ripeto, voglio vedere, non è che le mancanze di fiducia, tutto va bene, però vogliamo vedere in concreto che le cose si muovono in determinata maniera. Da qualche voce del mondo della politica, in particolare penso al vicepresidente della provincia Caprioni, ma anche al sindaco di Vermagna Marco Zacchera, è stato fatto rilevare come non si sia verificata una mobilitazione la notizia della perdita dell'autonomia per il VCO, mentre in altre province d'Italia c'è stato più fermento. Qui sembra che un po' la notizia abbia lasciato indifferenti forse il mondo civile, diciamo. Ma, diciamo che non so il resto dell'Italia come si è mosso e soprattutto le associazioni di categorie imprenditoriali. Io posso dire che noi, ovviamente a livello nazionale, come CNA, ma come tutte le associazioni degli imprenditori, unioni industriali, confartigianato, si auspicava, ma anche la gente stessa, si auspicava all'eliminazione delle province per risparmiare. Io personalmente non la vedo così, io penso che questi enti possono essere utili se funzionano. La provincia del Verbano, Cugio Oslo, era un ente che funzionava. Non lo dico perché ho fatto anche l'assessore provinciale, ma perché era una provincia che era vicino alla popolazione, una provincia piccola, è vero, ma una provincia che ha un territorio prettamente montano ed era molto vicina alla popolazione. Però lei conferma che c'è un po' un sentore di disinteresse forse nell'agente comune? L'agente comune sicuramente, sicuramente perché non percepisce a pieno quello che sono le funzioni che attualmente la provincia ha. A settembre, agli stati generali della provincia di Quadrante, lei che proposte porterà a nome della CNA? Le proposte che noi porteremo, sono quelle che avevamo già espresso in cabina di regia quando è stata convocata dal Presidente Nobile, è quella di fare in modo che se venga razionalizzata venga fatta questa provincia di Quadrante, perché noi ci crediamo e soprattutto bisogna capire bene che funzioni avranno le province prima di fare delle proposte un po' più concrete. Perché se le province diventano degli enti di secondo grado dove l'elezione viene attraverso i consigli comunali e non più l'elezione diretta da parte del Presidente, del Consiglio, da parte della popolazione, ovviamente anche i compiti penso che verranno un po' a scemare. Lo vedremo quindi nelle prossime settimane. Voi che autunno vi aspettate per il mondo produttivo del Verbano Cusiossola? No, ma noi ci auguriamo che ci sia una piccola ripresa, cosa che è l'augurio che noi ci facciamo, perché insomma altrimenti non lo vedo, se non c'è una piccola ripresa non vedo un bel autunno, ma soprattutto un 2012 che porti qualcosa di positivo. Grazie mille allora Presidente per essere stato con noi e grazie a tutti i nostri telespettatori. Grazie a voi.